Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, di nuovo col mio look da dipendente di un'agenzia di terz'ordine di pompe funebri, insomma un cassamortaro scalcinato, perché anche in questo caso si parla, mi vesto da cassamortaro per seppellire un altro mito della seconda guerra mondiale, il famoso famigerato celebrato e inutilizzato Panzer VIII Maus, il topo, il topone, il topastro, il topaccio, il topo, il maus, eccone qua una illustrazione, eccolo qui, in un suo ipotetico uso operativo, perché pare, pare che all'arrivo dei sovietici nella zona dove c'era la fabbrica che stava costruendo il maus, o che perlomeno aveva tre prototipi di maus pronti, praticamente i tedeschi accroccarono con questi tre maus un unico maus funzionante e pare che lo mandarono in battaglia, ma non se ne sa assolutamente nulla. Difatti l'unico prototipo esistente tutt'ora del maus fu catturato dai russi e portato alla Kubinka, il poligono di tiro nei pressi di Mosca dove venivano studiate le armi anticarro sovietiche e testati anche i carri armati sia sovietici che tedeschi catturati. Il maus si trova proprio al museo di Kubinka e lo vedete lì, grosso il doppio quasi di un di questo supercarro armato furono costruiti due prototipi, uno nel novembre 1943 e l'altro nel giugno del 1944, a seguito di un progetto presentato da Ferdinand Porsche ad Adolf Hitler nel giugno 1942 che ebbe sia l'approvazione del Führer sia quella del ministro degli armamenti Albert Speer. Molto probabilmente Speer non se la sentì di stroncare le gambe a questo progetto dopo aver, diciamo, cassato, dopo aver cancellato quell'abominio che era il P. Miller Atte. Insomma, diciamo che Speer non voleva scontentare troppo Hitler. Hitler che, ripeto, ogni volta ogni volta che Hitler vedeva qualche grosso, gli si presentava un progetto rappresentante qualche grosso, qualche cosa di grosso, inutile e pesante, Hitler non capiva assolutamente più nulla e autorizzava la creazione di questi progetti. Il mouse è uno soltanto degli esempi più clamorosi. Come ha detto un amico nei commenti qui sul canale Facebook, il fatto che a Hitler piacessero queste cose grosse, inutili e pesanti, spiega il perché del successo di Hermann Goering. E poi dicono a me che sono cattivo, ma lasciamo stare. Allora, dicevo, cari signori, allora, dicevo, due prototipi costruiti, uno nel 1943, uno nel novembre 1943 e l'altro nel giugno 1944. Il progettista era quel genio di Ferdinand Porsche. E non si hanno notizie della partecipazione di questo carro ad alcuni combattimenti, anche se, ripeto, alcuni esemplari furono trovati gravemente danneggiati a Kemmersdorf, forse colpiti dai sovietici o forse distrutti dai tedeschi, che comunque sia, pare abbiano tentato di usarne operativamente almeno uno, quello che è Akubinka, ok? La costruzione del Maus venne praticamente abbandonata nell'ultimo anno di guerra, dopo che ne erano stati ordinati e quantomeno abbozzata, iniziata la costruzione, di sei esemplari. Allora, il Maus o Panzer 8 o Panzer 8, vabbè, era lungo 10 metri, largo più di 3 metri e mezzo e alto 3 metri e 70. risultava pesante 188 tonnellate, con un motore diesel da 1200 cavalli che gli consentiva una velocità di 20 km orari con una autonomia teorica di 160 km. L'equipaggio consisteva di 6 persone. Questo supercarro poteva essere teoricamente superiore a tutti i carri alleati e a quelli sovietici della serie Stalin 1 e Stalin 2, a parte forse il suo maestà lo Zveroboi. Ma, insomma, sapete bene, io per la bestia mazza bestie, per lo ISU 152 Zveroboi ho un debole, insomma, quindi lasciamo stare. Dicevo, dicevo, il Maus aveva una corazzatura di piastre laminate e saldate spessa 240 mm, 24 cm, non poco diciamo, e poteva affrontare con successo qualsiasi altro carro dell'epoca. In teoria, in pratica, era tutto un altro paio di maniche, perché lento, pesante e poco mobile com'era, il Maus poteva essere al massimo un discreto mezzo da imboscata, ma in un dogfighting contro i carri alleati, o russi, o contro lo Zveroboi, se la sarebbe vista decisamente male. Perché 20 km all'ora, ando cazzo, vai! Siamo sinceri, soprattutto nel fango russo, soprattutto nel terreno morbido della steppa russa, soprattutto in terreno accidentato, cioè 188 tonnellate. Parlavamo del Ratte che ne pesava, che ne doveva pesare mille, insomma, il Maus che ne pesava 188, mettiamola così, non è che fosse propriamente una cavalletta in terreno accidentato. Ok? Allora, proprio il fatto dell'enorme peso limitava sensibilmente la mobilità, ripeto, in particolare quando doveva spostarsi su terreni morbidi. La Rasputizza, la stagione del fango nella steppa russa, ci pensate un attimo? Ok. I ponti che potevano sostenere questo peso di 188 tonnellate erano pochi e quindi il Maus, in teoria, avrebbe dovuto guadare i fiumi. Per questo era dotato di uno snorkel, di una presa d'aria, che gli permetteva di arrivare fino a 8 metri teorici di profondità. In pratica, però, 188 tonnellate di carro armato, nel greto del fiume da far attraversare a 5, 6, 8 metri di profondità. Cioè, insomma, non è che ci voglia tanto a capirlo. Ripeto, il Maus fu un'altra trovata di Porsche per spillare soldi a Hitler. Credo sia evidente. Porsche era un genio, ma era furbo. Era un uomo abile, capace, era un uomo che aveva una grande abilità politica, era un uomo che sapeva anche lavorarsi Hitler molto, 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 molto bene. E anche se Speer non era oggettivamente entusiasta di mettere in produzione il Maus, dovette far buon viso a cattivo gioco, dato l'appoggio esplicito e molto forte di Hitler al progetto del Maus. Ripeto, eccolo qua, in una ricostruzione di fantasia che lo vede in azione sul fronte orientale, eccolo qui, dicevo, il Maus era un progetto praticamente inutile. C'era una persona che questa cosa l'aveva capita prima di tutti, ed era il generale Heinz Guderian, il maestro della guerra corazzata. Fin dal 1941 a settembre 1941, Guderian diceva due cose. Uno, i russi stanno imparando la lezione della guerra dannatamente in fretta. Due, se vogliamo avere speranze di vincere la guerra, prendiamo il T-34, copiamolo pari pari, magari migliorando il pessimo cambio delle prime versioni, mettiamoci sopra la torretta del Panzer IV con un 75 mm lungo e voilà! abbiamo trovato la quadratura del cerchio per avere un carro armato facilmente riproducibile e funzionante. Invece no. Guderian non fu ascoltato praticamente da nessuno, gli industriali tedeschi scandalizzati e orripilati dalla proposta del grande generale tedesco si rifiutarono, preferirono progettare e costruire da capo i costosissimi Panzergattoni, cioè il Panther, il Tigre, il Königstiger e mettere le mani anche al Maus, al Topone. Ma ripeto, aveva ragione Guderian. Se i tedeschi volevano avere una chance di vincere la guerra avevano la possibilità di copiare pari pari il T-34, secondo i suggerimenti di Guderian, metterci sopra la torretta del Panzer IV con un cannone lungo da 75 mm e voilà! Invece no. Hanno dovuto mettere mano al Panther, hanno dovuto mettere mano al Tigre e al Königstiger. Perché? Perché volevano far vedere di essere più bravi dei subumanislavi, che però producevano una massa di T-34, di Stalin 1 e 2 e di Zweroboy assolutamente inarrestabile, mentre i tedeschi non potevano più tenere testa o ottenere il ritmo della produzione, soprattutto sovietica. Per non parlare poi degli Sherman americani, lo sapete anche voi. Comunque sì, ripeto, il Maus, il Maus, il Maus. Un altro mito che si sfata da solo è il Maus, il classico esempio del Gigante dai piedi d'argilla. Pesante, inutile, sottopotenziato, disastroso, disastrosamente costoso, che porta vantaggio soltanto alle tasche dell'ingegner Porsche. Tutto qua. Quindi, cari signori, il sottoscritto Metal Mike, ottimo massimo, in giacca, cravatta e bellezza assoluta, vi saluta e vi ringrazio per l'attenzione e, come sempre, vi dico arrivederci al mio prossimo video. Buonasera, signori.